Però un'introduzione, poi la parola al professor Spaggiari sulla tecnologia e poi il dottor Allegrini sulla parte clinica. Aspettate che metto prima... Mi metto in evidenza per tutti, non sono bello, però abbiate pazienza. Tanto adesso vi faccio vedere le slides. Allora, benvenuti. Quindi, innanzitutto, con questa presentazione della tecnologia S-Drive, di quello che possiamo fare con questa tecnologia, ne approfitto un po', ma anche per presentarvi la nostra importante scuola di alta formazione, che partirà a ottobre, la quale vi permetterà, insomma, di acquisire quelle nozioni sull'utilizzo ottimale di questo straordinario strumento, che è la tecnologia S-Drive. È un percorso, siamo già al quinto anno, quindi ogni anno viene migliorata e sempre più centrata sulla parte clinica, che è quella che penso che interessi più di tutti i maggiori esperti a livello nazionale e internazionale. Non abbiamo corretto ancora il comitato scientifico, ma come sapete c'è il professor Spaggiari, c'è Luigi Montano, insomma, abbiamo un comitato scientifico abbastanza importante. Voglio dedicare questa serata, se mi permettete, a questo grande maestro uomo che purtroppo ci ha lasciato due giorni fa, uno dei più grandi e straordinari medici che io abbia mai conosciuto nella mia vita, uno dei più grandi clinici, e quindi due parole bisogna dirle, questo è il messaggio che io ho scritto per lui, proprio che l'umanità ha perso uno dei più grandi, se non il più grande medico, uomo, clinico e maestro che sia mai esistito. Lui ha scoperto i reali rischi congeniti, linea materna dalla nascita, era capace con la percussione ascoltata dallo stomaco di capire i reali rischi congeniti e quindi voglio appunto ricordarlo insieme a voi, domani ci sarà il funerale a Riva Trigoso alle 10.30. Lui diceva sempre, siamo nell'era dell'unispeti e nella medicina serva dell'economia. Ancora devo trovare qualcuno che mi provi il contrario. Parliamo questa sera di qualcosa di importante che si lega a questa straordinaria persona. Quello che lui diceva era, fino a quando il discorso non cadrà sui mitocondri, sulla loro importanza in fisiologia e patologia, sulla terapia mitocondriale, con efficaci stanzioprotettori, cardiovascolare, diabete, cancro, continueranno a essere epidemie in aumento. E poi parlava della terapia ristrutturante mitocondriale, che se qualcuno è interessato, ha per me un onore poter condividere questa sua, direi questo dono che ho fatto all'umanità per riprogrammare, ristrutturare i mitocondriali. Allora, parliamo, entriamo nell'argomento, perché per me è una serata abbastanza emozionante aver perso un grande uomo, un grande amico, un grande medico. Parliamo della storia di Sewell Bain. Sewell Bain nasce da un grandissimo uomo, anche lui ha la sua età, è un ragazzino come Pier Giorgio Spaggiari, che tanti anni fa ha avuto in dono da degli amici tedeschi questa tecnologia che ha messo a disposizione su tanti prodotti, finché voleva donare all'umanità qualcosa di interessante. cosa ha fatto? Insomma, una persona che sta molto bene ha voluto donare quello che lui ha avuto dalla vita adottando 30 bambini nella sua casa. Lui adesso vive in Malesia. E nella sua casa ha detto, come faccio a dare da mangiare a 30 bambini? Cosa gli do? Poi, pensate, di questi bambini da tutte le parti del mondo. Insomma, con l'amicizia che aveva con medici, nutrizionisti, e la possibilità di avere questa tecnologia, di provarla, lui ha iniziato proprio a creare questa bobina, che tra l'altro è una bobina che è stata studiata con una tecnologia terza, russa, quindi è stata messa la tecnologia della lettura è tedesca, della biorisonanza, mentre lo spettro è tedesco, è russo. Hanno iniziato a lavorare a questa tecnologia, i nutrizionisti hanno creato una base intenzionale per evidenziare i dati. Questi dati di risonanza venivano rispediti, pensate ai tempi, via fax, via email, insomma, quindi ci volevano, pensate, 12 giorni per dotificare le informazioni. Quindi loro hanno messo un, veramente hanno impiegato anni per arrivare a leggere tutte le frequenze e che è le sostanze per creare poi gli algoritmi. Poi arrivavano, vedete, via email come numeri e nel 2001 hanno iniziato, e hanno adottato questi bambini e hanno iniziato a provare, a testare questa tecnologia. Pensate che sono voluti 10 anni per metterla a punto. Pensate che lavoro immenso e gli investimenti che hanno fatto su questa tecnologia. Nel 2014 l'hanno lanciata come prova in Australia e in Spagna. Nel 2016 è stato lanciato in altre nazioni, finché nel 2017 ho avuto la fortuna di conoscerla, perché era in 56 paesi nel mondo, adesso in 70 paesi nel mondo. e nel 2018 poi sono nati altri report che poi vediamo dopo. Quindi report che poi hanno la possibilità di mappare i vari fattori, comunque poi lo vedremo. In tutto il mondo, tutte le certificazioni, qui naturalmente sono sul nostro sito di riferimento sdriveitalia.it e questi sono tutti certificati, quindi per qualcuno vuole prendere qualche informazione, adesso 70 paesi nel mondo, 12 lingue, cliniche, palestre, nutrizionisti, medici, addirittura nel mondo veterinario, perché c'è il test anche per cani e gatti, in tutte le lingue. Allora, la premessa è questa. La domanda sorge assolutamente spontanea. Se è vero questo concetto, cioè l'epigenetica condiziona o no la salute di intere generazioni, gli studi stanno andando in questo senso. Non faccio mai una slide con i testi, ma qui ne vale veramente la pena. Perché cosa stiamo facendo per evitare che le influenze epigenetiche, i fattori epigenetici, danneggino le cellule, la qualità della vita e la salute dell'intere generazioni? Fumano i vostri pazienti? Bevono? Mangiano male? Vivono in un ambiente inquinato? Sicuramente sì. Hanno delle carenze nutrizionali, ma sappiamo quali sono le carenze nutrizionali di cui hanno bisogno? O dobbiamo parlare solo di vitamina D, omega 3 e vitamina C? Hanno una sensibilità alimentare, ma non quella dell'intolleranza alimentare, quella delle allergie. No, una sensibilità, un'incompatibilità con certe sostanze, magari di quegli alimenti che mangiano. Hanno problemi nel sistema immunitario, cardiocircolatori, gas intestinale, hanno reali rischi congeniti? Cioè c'è un problema di disfunzione mitocondriale? C'è una carenza di ossigeno? Una infiammazione silente? C'è un problema legato alla modulazione redox e al sistema antiossidante? Quali vitamine, aminoacidi, acidi grassi essenziali e minerali hanno bisogno le persone? Penso che questa tecnologia possa veramente fare la differenza. Amo dire che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino, perché la vita è urgente perché non si sa se domani ci siamo, oggi ci siamo, domani, sappiamo che non si sa. Ognuno fa tutti gli scongiuri che vuole, ma la vita è questa. Il DNA non è il tuo destino perché sappiamo che il 2%, il 10% alcuni dicono è il DNA, ma il 90% è sicuramente epigenetica. Quindi gli studi ormai stanno dimostrando che è tutta epigenetica, mitocondro, DNA mitocondriale, ambiente dove si vive, emozioni, pnei, ok. Queste cose le abbiamo racchiuso, pensate già in questo libro nel 2015 pubblicato da Edra, dove abbiamo parlato insieme ad altri 20 medici la modulazione fisiologica d'ossigeno al demano. Un bel libro, interessante. Allora, se è vero che la nostra salute e il benessere dipendono dall'insieme di tutti questi fattori e che conoscete benissimo, alimentazione, ambiente, stile di vita, stato emotivo, eccetera, l'ossigeno provoca un problema interessante perché la carenza di ossigeno provoca acidosi, l'acidosi stress osidativo, lo stress osidativo infiammazione. spesso questo è molto subdolo e si parla di infiammazione di basso grado, infiammazione silente, poi tutto il discorso è legato ai fattori, dall'aria che respiriamo al movimento, alla postura, cose che conoscete benissimo, però c'è un problema, che questi fattori non sono più quelli di 100-200 anni fa. l'ambiente in cui viviamo è stato non cambiato, è stato rivoluzionato, ci hanno confinato addirittura nelle case negli ultimi due anni, come sapete, e non penso che l'area delle case sia sana, è più inquinata che all'esterno, perché in casa non piove, perché in casa permangono le sostanze chimiche dei detersivi disinfettanti, perché c'è un forte impatto ambientale da campi elettromagnetici, wifi sempre attaccati, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è il sole in casa. Quindi, è un problema. Non si parla dei danni da campi elettromagnetici, non si parla abbastanza. Poi Giorgio magari se vorrà ci darà il suo parere anche su questo, ma non se ne parla. Non si parla di quanto questo impatto veramente importante della luce, il sole e la luna. Non se ne parla più, sembra che sei uno stregone quando parli di luce, sole e luna. E poi l'apnei che conoscete bene. Fatto questa premessa, la memoria nei geni, genetica o epigenetica? Dobbiamo riferirsi all'ambiente, alla stressa e all'eredità. Quindi dobbiamo incominciare, come dice il professor Michele Morriante, a parlare che il DNA non scrive il tuo destino. Dobbiamo incominciare a parlare di cellule invece che di organi e apparati. Quello dopo, ma la salute delle cellule, alcuni dicono 30 milioni, 50 milioni, facciamo che sono veramente tante, dobbiamo lavorare soprattutto alle cellule, perché dalle cellule si sviluppano le varie malattie, a seconda dell'ambiente dove si trovano. Ma la cellula funziona alla stessa maniera. Poi si definizierà in un organo apparato, ma il funzionamento è sempre quello. Mitocondrio, DNA mitocondriale, l'equilibrio degli acidi grassi essenziali, la barriera, citoplasma. Allora, come funzionano le cellule? Sempre Gagnaro diceva informazione, energia, materia. Il sangue porta informazione, energia, materia. Però noi comunque, rimanendo semplici, mangiamo per estrarre l'idrogeno e respiriamo per avere l'ossidio. Cosa mangiamo e cosa respiriamo si salvi chi può. Sfido chiunque a respirare era pulita oggi in questo mondo, in Italia soprattutto, 200 terre dei fuochi, Milano è al terzo posto mondiale di inquinamento e sappiamo che le terre dei fuochi sono ancora da bonificare, conosciute. Pensate quelle che non conosciamo. Pensate ai 98.000 siti di amianto da bonificare, 6.000 morti all'anno solo per amianto. Pensate cosa stiamo facendo. Non c'è il tempo adesso di fare tutto il corso, come dice anche Giorgio, di fare una lezione di fisica, in questo caso di entrare è solo una presentazione quindi pensate questi argomenti tutti poi approfonditi nella scuola di alta formazione dai medici naturalmente. Io faccio semplicemente un indice degli argomenti però va da sé che la carenza di ossigeno è un grosso problema da risolvere. Se io vi faccio rimanere 10 minuti senza respirare voi dite ma io non ce lo faccio muori prima e perché non pensiamo prima di pensare alla dieta a bere non pensiamo al corretto apporto di ossigeno a livello cellulare ma anche al fatto che la cellula consumi almeno l'ossigeno che noi gli diamo e se c'è una disfunzione mitocondriale e un'infiammazione silente quindi quell'ossigeno non consumato si trasforma in radicale libera e poi da lì abbiamo bisogno di un buon apporto di un sistema antiossidante che creazioni ma e me viviamo in un mondo inquinato se vi faccio la domanda quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento voi cosa mi dite? ebbene stai parlando tu sì ma lo so sono cose sì continuiamo a saperlo ma a fare finta di niente come quelli che sanno che il fumo sul pacchetto di sigaretta c'è scritto ti fa venire il cancro e lo cambiano dice dammi quello che mi fa venire l'ictus no? cioè siamo veramente ormai fuori dal mondo su queste su queste cose sì la coca cola fa male sì ma a me piace ah vabbè capite come ragioniamo ragioniamo che siamo nella ruota dei cricetti e se vi chiedo cosa fate voi per risolvere l'inquinamento voi medici per voi stessi e per i vostri pazienti assolutamente niente perché l'inquinamento purtroppo possiamo solo limitare i danni rafforzare il nostro sistema immunitario questo è un grosso problema da risolvere noi viviamo anzi ci hanno donato un mondo straordinario un universo meraviglioso questa ster straordinaria che è l'unica casa che abbiamo che se noi lo paragoniamo un acquario dove dovrebbero vivere i pesci in salute col giusto apporto di ossigeno il mangiare per i pesci noi invece cosa facciamo in questo acquario paragonabile ai pesciolini alle nostre cellule noi qui in questo acquario versiamo coca cola nutella zucchero pesticidi conservanti additivi alimentari di tutte e di più sì o no e questo è quello che accade e questo è quello che accade allora siete d'accordo con me che oggi abbiamo bisogno di qualcosa che possa aiutare in fase di anamisi naturalmente insieme a tutto il resto a migliorare e conoscere quale sostanze stanno danneggiando la salute dei vostri pazienti e sapere quali nutrienti magari quella persona ha bisogno non prendi la vitamina tanto che ti fa bene oppure non la prendere che non ti serve no abbiamo bisogno di sapere anche l'azione la sinergia l'antagonismo sul nostro metabolismo perché ogni vitamina ha le sue funzioni ha i sintomi di carenza e ha le sue fonti se no cosa manciamo a fare è lo stesso i minerali ma ancora più importante di questo test straordinario è conoscere cosa stia veramente danneggiando da un punto di vista ambientale questa persona quale sostanze chimiche idrocarburi radiazioni i metalli tossici non c'è bisogno di sapere se è intossicato da alluminio mercurio eccetera poi ci arrivo anche perché c'è il minerale antagonista ma i metalli tossici sono quelli cadmio mercurio cadolino piombo e poi c'è l'affetto l'affetto cumulativo tra stress attività fisica incongro e ritmi sonoveglia ormai a pezzi dove poi noi dovremmo proteggere l'invecchiamento invecchiare un privilegio sappiamo che prima o poi ce ne andiamo c'è game over ma invecchiare di qualità è importantissimo ma cosa stiamo facendo per questo ci sono anziani che assumono 14 farmaci al giorno che sono magari costretti alla bombola di ossigeno infermi a letto che non riescono a fare una rampa di scale non è vecchiaia poi la vita è sacra però è un problema e a livello emozionale come stiamo gestendo le emozioni pure le emozioni sono universali guardate che bello l'emozione della felicità che sprizza da tutti i pori ci accendiamo quando siamo felici sicuramente conoscere quindi avere a disposizione questi indicatori dei fattori epigenetici che vedete in questo grafico tutti questi fattori che S-Drive riesce a mappare dagli antiossidanti e sfida ambientali indicatori di resistenza l'acido di grassi essenziali eccetera eccetera è fondamentale per la salute delle persone per migliorare l'analisi per dare dei consigli mirati personalizzati ecco che le informazioni epigenetiche permettono proprio la comunicazione attraverso la vibrazione e la risonanza perché tutto vibra e questo naturalmente ce lo dirà in grande prof quindi siamo in equilibrio nutrizionale ambientale psicofisico emozionale o cerchiamo solo quello nutrizionale fondamentale certo possiamo far scegliere uno stile di vita migliore ai pazienti ai vostri pazienti come fate a fargli cambiare città lavoro e casa un po' difficile eppure l'impatto ambientale sta sprogrammando la vita di intere generazioni vogliamo parlare delle terre dei fuochi i bambini che stanno nascendo malati le madri sempre più malate che trasmettono quindi un segnale sbagliato quindi mettono al mondo bambini malati dobbiamo lavorare su capire e conoscere quello che sta danneggiando ma non facendo delle analisi per vedere il danno che ha fatto l'inquinamento dovremmo evitare l'inquinamento puoi fare anche il resto ma dovremmo anche incominciare a lavorare sul prevenire i danni incominciare a lavorare su un'importante possibilità che abbiamo di nutrire in maniera ottimale perché come vedete la ricerca ha dimostrato proprio che è un modello di genoma che interagisce con i fattori di stress fino a livello embrionale quindi noi sprogrammiamo la vita già a livello embrionale questo è un articolo molto bello poi ritmi sonnovelli l'ambiente dove facciamo crescere e dove dormiamo e viviamo e lavoriamo noi guardate se questa è vita gli ultimi dati del ministero 4 su 10 muoiono di infarto ictus e aumentano le malattie degenerative la terosclerosi disturbi metabolici cancro soprattutto nei bambini da 0 a 2 anni perché le madri sono sempre malate l'ambiente è sempre più inquinato c'è sempre una disfunzione mitocondriale ipossia e con causa epigenetica la terosclerosi è una malattia epigenetica e questo è il giornale italiano della terosclerosi l'epigenetica e il rischio cardiovascolare in età pediatrica è un problema ormai è una pandemia dove non ci occupiamo più della rimetilazione del DNA della perdita dei gruppi metili della carenza di B12 della carenza di metionina dell'esserosi metionina della B6 eccetera eccetera e guardate qui ormai questo è un progetto importante inquinamento atmosferico effetti sui marcatori epigenetici questo la metilazione del DNA ed esposizione a inquinamento atmosferico nei primi mille giorni di vita e qui si parla chiaramente di dati ormai a chiari dove si lavora con il danno sull'accorciamento dei telomini ma se questo è vero non è che abbiamo bisogno del test epigenetico della modifica del micro dell'mrna per vedere che il fumo fa male il fumo ti modifica no io devo lavorare a scopo preventivo prima che ci sia un danno a livello di metilazione e oggi c'è la possibilità di lavorare a scopo preventivo anche sull'omocisteina magari capire se c'è un problema di mthfr perché poi dopo alla fine andiamo a approfondire con qualsiasi altro esame non è che questo esame esclude o sostituisce questo è un supporto ma senza di questo io dico come fai a capirlo lo vedi quando è troppo tardi come ci dice il premio nobile alla medicina 253 articoli scientifici questa grande scienziata Elizabeth Blackburn cosa ha fatto ha scritto anche un libro la scienza che allunga la vita meraviglioso questo libro ci dice attenzione stress cronico per la depressione stress per Natale trauma dei bambini l'abuso la bassa educazione le carenze l'inquinamento il fumo la dieta sbagliata l'obesità accorciano i tenomeri già nella pancia della mamma e poi nella vita quindi dobbiamo incominciare a parlare di prevenzione nei primi mille anni di vita no ancora prima nella salute dei padri e delle madri prima del concepimento e poi non solo nei primi mille giorni di vita ma nei duemila giorni di vita fino ai sette anni quindi lavorare sul sistema immunitario rafforzarlo non solo virus ma tutti i fattori e poi si parla oggi di metabolonica sicuramente interessante per prevenzione prognosi patologie multifattoriale faccio notare che è veramente importante ma io qui lo vedo dopo cioè io vedo i metaboliti del danno causato da un errato stile di vita o dall'impatto ambientale quindi vedrò lo stress associativo vedrò le varie carenze no io per poi far cosa guardate sempre su questa meravigliosa diapositiva che mi dice tutto questo mi serve per produrre energia ah interessante in un mesenchima intossicato da inquinamento con interferenze da campi elettromagnetici che mi danneggiano il dna l'esame metabolomica lo sappiamo è importante no il metabolismo dei lipidi delle cellule nervose i carboidrati ma cos'è che io poi riesco a capire qual è la causa qual è la concausa io qui ho un metabolita ho un risultato di un'attivazione metabolica sì o di una modifica metabolica ma qual è la causa e la concausa è lo stress è l'inquinamento sono delle carenze come faccio a saperlo posso poi usarlo ma in maniera mirata dopo io penso che è interessante questo apporto questo sistema questo metodo ma io devo parlare soprattutto di prevenzione non di malattia perché malattia è una diagnosi spettamente medica ecco il discorso epigenetica di prevenire l'esposizione chimica ambientale che può influenzare il metabolismo incominciare a riprogrammare l'informazione e creare cultura sul danno ambientale sulle future generazioni su salvare questi bambini su levitare l'infertilità che sta come dice il grande Luigi Montano ormai dobbiamo fare presto nel 2030 se già si parla di percentuali di infertilità vicine al 70% 467.000 morti l'anno per inquinamento nel 2019 guardate qui tutte le tossine che compriamo e viviamo in un mondo malato pochi sanno che il fumo di una sigaretta inquina 15 volte più di una macchina diesel eppure le fonti sono ufficiali mi dicono sempre di portare riferimenti scientifici e lo sto facendo e qui è l'Istituto Tumori di Milano e si continua a fumare abbiamo fumato per decenni anzi in luoghi chiusi i bambini in macchina pensate cosa abbiamo fatto di danni a noi cosa ci hanno fatto 140.000 sostanze chimiche 370.000 morti per tumori la concausa è sempre quella è la associazione italiana oncologia medica esposizione a sostanze tossiche stile di vita alterazioni genetiche si parla poco di mitocondrio DNA mitocondriale e corretta ossigenazione delle cellule ci arriveremo nonostante i 3-4 premi Nobel della medicina ci arriveremo fattori di rischio sono sempre i soliti agenti cancerogeni cioè ma voi capite l'ipocrisia l'assurdità di cui stiamo prendendo comunque coscienza perché poi ci vuole la coscienza di tutte queste sostanze che comunque in fase di anamnesi se ne parla pochissimo se ne parla pochissimo per esempio si parla poco dell'impatto dei campi elettromagnetici si parla pochissimo che stiamo bruciando il cervello dei nostri bambini il professor Marinelli ha scritto un libro wireless dove dice vietare il cellulare fino ai 14 anni il cellulare crea dipendenza come lo zucchero e la droga 300 riferimenti scientifici in questo libro wireless di Marinelli di Fiorenzo Marinelli eppure però oggi il cellulare è diventato il babysitter per i bambini ci fanno addormentare i bambini in culla con la musichetta il babysitter ai ristoranti danni provocati radiazioni elettromagnetiche stiamo raggiungendo un picco di autismo incredibile siamo a 1 su 39 in America erano 1 su 1.500 e quindi poi parliamo che le persone sono un po' stanche hanno un po' di mal di testa e vorrei vedere perché facciamo crescere oggi i bambini lì dentro questa gabbia con questo ping pong di frequenze che qualche danno penso che lo facciano perché noi non siamo programmati per vivere un ambiente così siamo acqua e se si fa una lezione il professor Spaggiari sull'acqua capiamo quanto l'acqua sia danneggiata da queste interferenze da campi elettromagnetici vedete microonde televisione computer cellulari distruggono le molecole dell'acqua e guardate questo è un documento ufficiale dell'istituto scusate dell'ISD medici per l'ambiente pubblicato european se lo volete ce l'ho nel 2016 dove quello che io vi ho detto virus, batteri, traumi funghi, pesticidi eccetera 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 cosa fanno? aumentano lo stress nitrosativo e ossidativo e danneggiano a livello mitocondriale ma se già c'è un danno già a livello mitocondriale silente o dalla nascita qui acceleriamo quindi questo trigger epigenetico aumenta e infatti abbiamo 500.000 morti premature in Europa a causa dell'inquinamento e continuiamo invece in televisione a guardare come si chiama il grande fratello VIP e Elisa dai famosi quello si crea cultura e l'Italia è al primo posto e infatti ancora però ce lo dicono nella comparsa dei tumori con tale epigenetica però continuiamo a far finta di niente viene trasmessa alla terza quarta quinta generazione ci dice che tutto viene trasmesso a livello fetale e dall'allattamento ci dicono che i ragazzi ormai sono al 60% di infertilità documento ufficiale della SIRO Società Italiana di Riproduzione Umana di Luigi Montano che oggi e domani sarà proprio a Roma a parlare di natalità e porterà i suoi dati e abbiamo fatto uno studio anche con S-Drive con lui 450 bambini ragazzi di 16 anni dove abbiamo visto si salvi chi può siamo veramente disperati perché non c'è più mobilità a livello del liquido seminario è un problema allora dovremmo lavorare non solo sui mille ma dovremmo lavorare sulla salute dei padri delle madri prima del concepimento cellule sane si programmano e si differenziano in maniera sana dovremmo parlare soprattutto sul regalo che tua madre non vorrebbe farti distruttore endocrine sostanze chimiche particolari metali pesanti e la domanda che faccio è cosa fate voi professionisti oggi per capire in modo preventivo predittivo cosa sta stia danneggiando la salute delle vostri pazienti dei vostri pazienti qui sono tutti gli studi dei primi mille giorni dei danni a livello ambientale addirittura il senato della repubblica ci ha confermato quello che vi dico questo documento 193 pagine lo potete scaricare del 2018 si sottolinea che la letteratura scientifica ha evidenziato che l'esposizione prenatale e inquinanti chimici altera l'epigenoma ammio fetale con potenziali conseguenti negativi e cariche dello sviluppo e manifestazioni di malattie dell'infanzia nel corso della vita e attraverso trasmissione transgenerazionale poi l'obesità si sprogramma e si programma già nella pancia della mamma perché ha origini epigenetiche e l'abbiamo importata dall'America che bevono Coca-Cola al posto dell'acqua e vediamo i bambini che nascono soprattutto nelle zone meno ambienti e guardate qui quindi cosa vogliamo fare vaccinare il pesce o pulire la vasca? ogni riferimento è puramente casuale quindi dobbiamo mangiare per produrre idrogeno e dobbiamo rimettere in moto la produzione di ATP a livello mitocondriale perché è il DNA mitocondriale che decide la longevità come ci insegna anche il professor Cossarizza di Modena e tutti i vari studi che ci dicono che i mitocondri sono implicati nelle malattie metaboliche desiderative invecchiamento nel tumore che ci serve la salute dei mitocondri per combattere l'inquinamento addirittura le malattie mitocondriali influenzano i microbiota questi studi importanti ci dicono che le mutazioni del DNA mitocondriale ereditate per via materna influenzano sia il microbiota intestinale sia le malattie a esso correlato quindi la fondazione di medicina mitocondriale ma anche il BESA ci dice attenzione ponete attenzione sulla salute dei vostri mitocondri e delle cellule che potrebbero essere collegate a tutte le malattie allora dobbiamo caricare i mitocondri caricare le cellule salvaguardare l'ambiente dove vive la cellula dei fattori che possono interferire con le nostre cellule a cominciare dall'apporto di ossigeno che ormai da 24 anni ho l'onore di lavorare proprio sull'ossigenazione perché come Guiton insegna qualunque sofferenza stato di malattia nasce da una carenza di ossigeno a livello cellulare effetto varbo che lo conoscete lo switch metabolico che poi induce all'infiammazione quindi al tumore quindi lavorare su tutte le varie forme di possie sull'ischemia di perfusione mantenere un livello ottimale di ossigeno e da sempre noi proponiamo self food ma questa è un'altra storia poi se avete voglia in un altro seminario potremmo o presentazione potremmo parlare anche di tutti i lavori scientifici anzi proprio il 27 e 28 di questo mese per chi vuole il 27 e 28 maggio ci sono due eventi molto importanti il 27 con il professor Miceli e il professor Iorio che parleranno proprio della della nutraceutica in approccio clinico integrato quindi ognuno ha la sua verità è chiaro che ognuno ha il suo modo di curare al suo metodo però io dico è un problema grosso quello che abbiamo visto fino adesso e se voi guardate questa fotografia questa diapositiva magari alcuni vedono cerchi altri quadrati io dico che dobbiamo unire le forze mentre c'è un tavolo e incominciare a capire cosa possiamo fare tutti insieme per risolvere questi problemi lo faremo al congresso internazionale il 9-10 settembre a Bologna scrivetevi saranno due giorni veramente importanti e il 10 faremo il tributo a Sergio Stagnani quindi un uomo intelligente risolve un problema non lo sa abbiamo bisogno di una medicina preventiva personalizzata predittiva partecipativa non la medicina di pane pizza patate non quella non quelle 4P queste 4P perché dobbiamo riprogrammare le cellule a livello epigenetico rimodellare la cromatina in maniera corretta e ce lo ridice l'Aerge ci dice l'epigenetica studia come letale esposizione ai fattori ambientali tra cui agenti fisici e chimici dieta di vita fisica posso modificare l'espressione dei geni ma è tardi studiare che modifica lo so bene cerco di evitare il problema di questi meccanismi ormai li conosciamo quindi ecco dei report personalizzati sul sistema immunitario su lo sport sulla medicina estetica sul benessere dei capelli pelle e ungo quindi qui in tutti questi report ci dà dei consigli cosa fare da lì a 90 giorni per riequilibrare poi naturalmente col vostro metodo supporto l'indirizzo professionale per conoscere tutti questi fattori per incominciare a lavorare sui sistemi vedete quante cose può dire S-Drive metabolismo di zuccheri metabolismo di acidi grassi sintesi proteica produzione di energia il sistema ormonale sistema adrenergico il sistema immunitario l'infiammazione del stress sedativo l'equilibrio omifobico intestinale il gastrointestinale la salute cerebrale l'intestino il muscolo scheletrico il sistema cardiovascolare detossificazione sonno emozioni idratazione cellulare quanti sistemi oggi possono veramente dare in 12 minuti queste indicazioni utili per una migliorare l'analisi certo già parliamo di biofisica ma già consigliate magari la risonanza magnetica o consigliate la l'attac e questa è biofisica questa è medicina quantistica ce lo spiegherà il professor Sbagiari l'ecocardiogramma l'elettrocardiogramma questi armesi che utilizziamo dai cellulari perché perché tutto vibra e se noi poi lo sentiremo parlare conosciamo lo spezzolo conosciamo la sostanza tutto vibra e questa è la tecnologia S-Dry questo straordinario device dove si posizionano i capelli al centro della bobina fa questa scansione genera lo spettro di frequenza dall'ultravioletta all'infrarosso che poi in risonanza con le informazioni del bubo ci cattura tutte queste informazioni relative al capello che come sapete è un importantissimo biomarker in grado di archiviare tutte queste informazioni il capello utilizzato per per capire se una persona è esposta a sostanze chimiche per capire se una persona fa uso di sostanze stupefacenti se lavora in un ambiente inquinato addirittura vedete anche entrato in un progetto molto importante nel follow up 24 mesi dal CISAS dove si prendono i capelli proprio per capire quanto questi bambini siano esposti alle sostanze tossiche perché è un'antenna tra il microambiente interno e il macroambiente esterno è un'antenna che ci permette di conoscere quello che sta accadendo dentro e le interferenze dall'esterno quindi pensate la matrice extracellulare è l'elemento essenziale nel sviluppo di follicoli peliferi quindi pensate quindi tutto il discorso che torna matrice salute della pelle eccetera eccetera perché considerare la mappatura epigenetica prima di eseguire uno specifico esame del sangue e dei tessuti per avere un indirizzo sulle priorità la NASA utilizza già i capelli per la salute degli astronauti viene utilizzato il bulbo del capello per i disturbi psichiatrici addirittura lo considerano il biomarker più affidabile per lo stress quindi per misurare il cortisolo il più affidabile più che i tamponi il capello perché archivia questi 90 giorni di informazioni è l'USB del computer che dovete potete scaricare tutte le informazioni il nostro corpo lo fa in maniera automatica è un biomarker veramente importante poi questi dati mappati vengono inviati ad Hamburgo e viene fuori questa mappatura intelligente che pensate mappa ha oltre 800 marcatori chiave con delle priorità di intervento e dei consigli naturalmente tutti i certificati FDA ci dice che questo strumento è utile per promuovere la buona salute promuovere uno stile di vita sano motivare incoraggiare sostenere raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere la diagnosi e la cura delle malattie sono di competenza di un medico di comprovata esperienza ma noi ci occupiamo di promuovere la buona salute e fare prevenzione report soprattutto non epigenetico report dei fattori epigenetici che è più corretto questi sono alcun esempio della pagina 3 riassuntiva poi siamo a vostra disposizione dove vedete ci dice già questa persona ha bisogno di lavorare di togliere sostanze chimiche di avere delle vitamine a supporto di stare attenta ai campi magnetici di avere degli acidi grassi essenziali ha bisogno di minerali è interessante ci sono vari cliniche centri addirittura il centro del Real Madrid dove utilizzano l'S Drive farmacie insomma atleti d'elite a livello mondiale e queste sono le varie pagine che voi potete avere a disposizione nel report per migliorare e ottimizzare i vostri consigli i vostri interventi e vi vi lascio con questo messaggio importante questa è una review ultima molto recente sulle biotecnologie quantistiche ho fatto una scoperta importante le tecnologie quantistiche sfruttano le leggi della fisica quantistica chiaro le recensione è scritta per essere accessibile a tutti quindi se volete poi vi mando tutta la pubblicazione vi dice che le stime del mercato totale delle tecnologie quantistiche variano ma sono generalmente nell'ordine di centinaia di miliardi di dollari perché a volte sento parlare quello si sono tutte cavolate si ma dove volete andare lo sentivo dire sette anni fa si stimano che le applicazioni del quanto simulazioni della progettazione di piccole molecole come catalizzatore sviluppo di prodotti farmaceutici avranno un mercato compreso tra i 200 e 500 miliardi di dollari entro il 2035 questo è come vedete un riferimento ufficiale dati ufficiali possibile impatto di queste tecnologie quantistiche includi lo sviluppo di una migliore comprensione della biodinamica che è alla base dello sviluppo farmaceutico della funzione enzimatica del trasporto di energia potonsintetica eccetera investimento dell'azienda di tecnologia quantistica è cresciuto quasi quattro volte nel 2012 adesso sta arrivando cento volte entro il decennio ricordo alcuni dico sempre che la Kodak è fallita la Nokia è fallita come si chiama quello blockbuster lì che vendeva le cassette che ha detto a Netflix che non aveva tempo doveva vendere i dischi è fallito anche lui perché perché follia è fare le stesse cose aspettandosi risultati diversi vi ricordo il nostro percorso di scuola di alta formazione il nostro sito a disposizione con tutte le informazioni non vi faccio vedere l'intervista su canale 5 tanto la trovate da tutte le parti anche su youtube se volete me la chiedete l'intervista che ha fatto a canale 5 Italia 1 Rete 4 proprio sulla tecnologia vi lascio con questo messaggio semplice la vita senza amore non ha senso dobbiamo unire le forze grazie di cuore a tutti è un privilegio poter condividere questa passione entusiasmo nel portare avanti la vera prevenzione l'informazione il creare quindi cultura e condividere questa intesimente possibilità di utilizzare uno strumento straordinario come S-DRAI grazie veramente di cuore grazie a tutti